Ogni settimana prosegue il nostro viaggio della fiera in tv, andiamo direttamente nelle aziende per conoscere la struttura, la dinamica e le macchine. Questa settimana siamo venuti in Erroero, a Sommariva del Bosco, per conoscere la ditta Bonino. Intanto presentiamo la titolare. Sono Cristina Bonino, della Bonino SRL, cotitolare, siamo nella sede di Sommariva del Bosco. Quali sono le macchine di cui vi occupate da molti anni per tradizione familiare? Noi siamo una realtà storica, dal 1946 produciamo macchine per l'agricoltura e l'allevamento e in particolare ci siamo specializzati nella produzione di falciotocaricanti trainati. Non solo, perché facciamo anche carri forageri, carri autocaricanti e macchine per la raccolta delle erbe aromatiche. Oggi vi parliamo della nostra gamma di falciotocaricanti trainati e del nostro concetto dei tree system, taglia, carica e distribuisce. Abbiamo una gamma molto ampia che si adatta ad ogni tipologia di terreno e taglia aziendale. I nostri modelli hanno una capacità compresa fra gli 11 e i 46 metri cubi e si adattano a tutte le tipologie di terreno, montagna, collina e ovviamente pianura. Tutte le macchine sono dotate di sistemi di scarico che permettono di adattarsi alle varie esigenze aziendali. Possiamo scaricare posteriormente, mediante un portellone che può essere manuale o idraulico, un sistema di scarico a tappeto mediante una catenaria in ferro bilaterale, oppure un sistema di scarico con rulli dosatori. Gli stessi scarichi si possono modificare con prolunghe o adattamenti particolari per rispondere alle esigenze del cliente finale. I modelli presenti oggi sono una B45TR con una capacità di carico di 19 metri cubi ad un solo asse ed un portellone idraulico per lo scarico posteriore e comandata mediante cavi flessibili. Accanto invece abbiamo un modello AB75TR con una capacità di 35 metri cubi con un doppio asse, un sistema di scarico a rulli dosatori che agevola molto il lavoro in azienda, garantendo uno scarico omogeneo e un minor sforzo per l'operatore. Il tutto è comandato da una pulsantiere elettrica. Il nostro punto di forza è l'adattabilità della nostra macchina al cliente. Cerchiamo di rispondere alle richieste di ciascun cliente per creare un prodotto ad hoc che sia il più possibile adattato alle esigenze e ai bisogni dell'azienda e del cliente finale. Questa nostra volontà di adattamento si evidenza anche nei nostri prodotti come le macchine per le erbe aromatiche e la nostra falciatrice raccoglitrice di lavanda nata proprio per rispondere ad un'esigenza di mercato europea ma non solo. Siamo a vostra completa disposizione per presentarvi tutta la nostra gamma e per trovare insieme la miglior soluzione per il vostro lavoro. Ci potete trovare sul nostro sito internet www.buoninoitaly.com e sulle nostre pagine social.